della Commissione parlamentare di vigilanza RAI perché stanno votando sulla nuova par condicio. Le opposizioni sono furibonde e sono unite per una volta tanto su questa cosa perché praticamente Fratelli d'Italia vuole di fatto una par condicio che valga per tutti ma non per il governo, quindi non per la cosiddetta comunicazione istituzionale. Tu hai capito Marco, questo capitolo informazione RAI per Giorgia Meloni sembra quasi un po' un'ossessione. Perché? Cosa c'è adesso? Oltretutto non c'era bisogno di mettere mano alla par condicio che già esiste da tanti anni. Già di per sé è una cosa un po' bizzarra ma siccome siamo un paese senza legge sul conflitto di interessi. Ma diciamo che l'ossessione per la televisione come insegna il berlusconismo accomuna le destre da sempre. Devo dire che li ha battuti Renzi quando riuscì a lottizzare tutti e tre i canali e tutti e tre i telegiornali RAI a far fuori Giannini, Gabanelli, Giletti, Porro. Quindi non è una novità. Mi domando che cosa vogliano di più nel senso che hanno di nuovo Mediaset ai loro piedi grazie al fatto che la tassa sugli estra profitti delle banche è stata praticamente ritirata come richiesto da Marina Berlusconi quindi Mediaset è un coro unanime alla RAI non mi sembrano mal piazzati evidentemente vogliono evitare sanzioni da parte dell'autority per una campagna elettorale che stanno preparando a sprombattuto e questo dipende dal fatto che stanno andando maluccio nei sondaggi speravano di sfondare e invece i sondaggi più o meno fotografano la situazione delle elezioni del 2022 Forza Italia invece di andare verso il 30 va verso il 27, 26 Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia scusa la Lega è lì con Forza Italia ma più o meno sugli stessi numeri diciamo deprimenti per loro del 2022 e quindi pensano che dicendo che va tutto bene ancora più di quello che si dice a reti unificate la gente abboccherà all'amo e porterà messi di voti non credo francamente non credo che raccontando in televisione che la riforma dato che vogliono mettere a riparo la comunicazione istituzionale quindi dicendo che l'autonomia differenziata sarà un toccasana per il Sud e anche per il Nord mentre è l'opposto o che l'elezione diretta del Premier da cui persino Israele che l'aveva sperimentato da solo è scappato ci darà dei governi più saldi e più coesi sappiamo tutti che non è vero oppure che questa legge finanziaria con i fichi secchi che è stata anticipata oggi con il DEF senza un soldo anzi con 10 miliardi ancora mancanti di tagli che non ci vogliono dire dove li faranno ma da qualche parte li dovranno fare altrimenti torneranno indietro sul taglio del cuneo fiscale ecco se riescono a coprire tutto questo popò di letame fino alle elezioni le elezioni andranno benissimo credo che si sbaglino e questo mi dà l'idea sia della loro disperazione e anche della loro mediocrità perché fare la battaglia contro la realtà è un gioco da stupidi è per questo Lina Palmerini che vogliono cambiare